Ci credereste? Non sono mai andata dal parrucchiere. Quando lasciai la campagna per la città, scopri l'esistenza di due mestieri che mi sembravano ugualmente aberranti, in quanto assolvevano una funzione a cui tutti devono pur essere in grado di provvedere da sé. Ancora oggi mi è difficile pensare che i fiorai e i parrucchieri non siano dei parassiti, i quali, vivendo dello sfruttamento di una natura che appartiene a tutti, assolvono con mille moine e prodotti profumati un compito che io adempio da sola in bagno con un paio di forbici ben affilate. «Chi le ha tagliato i capelli così?» chiede indignata la parrucchiera alla quale, in virtù di uno sforzo titanico, sono andata ad affidarmi perché renda la mia capigliatura un'opera addomesticata. «Vabbè, non lo voglio nemmeno sapere», riprende con aria disgustata, risparmiandomi la vergogna di dovermi autodenunciare. «La gente non ha più rispetto per niente, lo vedo tutti i giorni. Vorrei giusto una spuntatina», dico. Non so bene che cosa significhi, ma è la classica battuta dei telefilm in onda nel primo pomeriggio. «Una spuntatina? Non c'è niente da spuntare», dice. «Bisogna rifare tutto da capo, signora». Mi guarda la testa con aria critica e mette un piccolo sibilo. «Ha dei bei capelli, meglio di niente. Forse riusciamo a tirar fuori qualcosa di buono. Quando una folta massa di capelli acquista troppo volume, che cosa si può mai fare se non tagliarla in tutti i versi? Prima era questo il mio credo in materia di acconciature. Ormai la mia somma concezione tricologica è scolpire nell'agglomerato affinché assuma una forma». «Lei ha proprio dei bei capelli», dice alla fine, osservando visibilmente soddisfatta la sua opera. «Sono spessi e setosi. Non dovrebbe affidarsi a uno qualunque». «Un'acconciatura può trasformarci a tal punto? Quando mi vedo riflessa nello specchio non credo ai miei occhi. La capigliatura nera che imprigiona un viso che ho già definito ingrato è diventata un'onda leggera che giocherella attorno a un volto non più così brutto. Mi dà un'aria rispettabile. Mi sembra perfino di somigliare vagamente a una matrona romana. È meraviglioso», dico, chiedendomi come potrò nascondere questa sconsiderata follia agli sguardi dei condomini. «Torno a casa camminando rasente i muri. Ho una fortuna inaudita e non incrocio nessuno. Però mi sembra che Lev mi guardi in modo strano. Mi avvicino e lui tira indietro le orecchie. Segno di collera o perplessità. Beh, dico, non ti piaccio? Prima di rendermi conto che stanno usando tutto intorno con frenesia. Lo shampoo, puzzo di avocado e mandorle. Mi metto un fazzoletto in testa e mi dedico a un bel po' di occupazioni appassionanti, il cui apice consiste nella pulitura coscienziosa dei pulsanti d'ottone della gabbia dell'ascensore. Arriva all'1.50. Tra dieci minuti Manuela spunterà da nulla dalle scale per venire a ispezionare i lavori finiti. Non ho molto tempo per meditare. Mi tolgo il fazzoletto, mi spoglio in fretta, mi infilo il vestito di Garbadine Beige che appartiene a una morta, dopodiché bussano alla porta.